Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video, sto registrando con il cellulare quindi appunto un po' siate appoggiati in una posizione molto strana, comunque in questo video volevo aggiornarvi sul progetto smaltimento make up, ho deciso di fare quest'anno il 20 in 2020 cioè di finire 20 prodotti make up entro la fine del 2020. Vi metto il link del video 20 in 2020 e giù tra le schede nell'info box tra le schede no, giù nell'info box trovate anche la playlist con tutti i vari progetti smaltimento make up. Allora vi mostro intanto i prodotti che ho finito, calcolate però che ad esempio in questo momento ho l'influenza, l'ho presa anche la scorsa settimana quindi ecco non sono uscita tanto e quindi non uscendo praticamente mai mi trucco meno ma nonostante questo oggi è il 7 marzo ho finito tre prodotti quindi un prodotto al mese. Se si va avanti così non riuscirò a finirne 20 però vabbè io ci provo comunque. Allora intanto vi voglio mostrare la pastello labbra di Neve Cosmetics che ho finito. Dovrebbe essere sfilata ma l'ho appunto temperata e quindi non si vede più comunque questo è il residuo della matita che è rimasta. È una matita che a me è piaciuta molto il colore non mi stava molto bene però a livello di matita mi piace perché non va a seccare le labbra il colore è bello io lo utilizzo come rossetto mi trovo benissimo. Poi ho terminato un prodotto che non era in questo progetto smaltimento ma siccome è makeup io lo inserisco comunque nei finiti nei venti finiti del 2020 perché comunque è un makeup finito ed è questo qua che è un rossetto liquido una tinta labbra di Lush non so se le fanno ancora queste qua però il colore era believe è mezzo cancellato comunque io ho tolto anche il tappino questo qua che è qui all'interno in modo da togliere più prodotto possibile quello che è rimasto è secco ma comunque era praticamente finito questo colore non mi stava bene per niente ma l'ho voluto comunque terminare costano troppo per quello che sono queste tinte labbra molto belli colori ma appunto costano troppo si può trovare qualcosa di comunque bello ma che costi un po meno come ad esempio quelle di Astra. L'ultimo prodotto che ho terminato è il mascara Pupa Vamp questo qua mi è piaciuto a parte per il fatto che si va a sporcare tutta la confezione quindi faccio un po di pastrocchi ovunque lo scovolino è così comunque lo conoscerete di sicuro tutti questa era una mini taglia mi sembra pagata un euro mi è piaciuto mi è piaciuto molto l'ho finito volentieri pensiamo un attimo a quello che era nel progetto allora il fondotinta di Essence continua ad esistere è il mio fondotinta preferito penso di aver superato la metà però è sempre qua l'ho utilizzato non tantissime volte ma quando ho messo il fondotinta ho messo questo alternato a quello di brochet che vi ho messo anche mi sembra nei top e nei flop vi lascio il link di quel video poi altro prodotto che ho utilizzato ogni volta che mi sono truccata e ho utilizzato solo lui è il blush che ormai non ne posso veramente più di wet and wild il mellow wine confezione completamente rotta questo è quello che ne rimane se mi ricordo di mettervi una foto ve la metto qua accanto così si può vedere la differenza tra il prima e l'adesso è un bel blush però io veramente non vedo l'ora di finirlo perché non ne posso più voglio utilizzare altro è che se io questo qua lo vado a mettere da parte so che poi non lo finirò mai più quindi mi sforzo e cercherò di finirlo entro la fine di quest'anno poi la terra questa qua della i brochet l'ho utilizzata tre quattro volte non di più quindi il buco non credo sia aumentato più di tanto ho utilizzato sempre il luxury di elan di ehan scusate mi era stato omaggiato dall'azienda al cosmoprof è quasi finito alle setole in silicone che sono veramente tanto 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 dure e se avvicinate troppo all'occhio bucano ma mi piace molto come prodotto infatti credo di tenermi lo scovolino perché quando si hanno dei mascara che stanno per finire o che non sono dei bei mascara che quindi appiccicano un po' le ciglia tra loro questo qua avendo dentini molto duri riesce a pettinarle a pettinare molto bene le ciglia e quindi lo trovo ottimo per questo scopo è quasi finito credo che nel prossimo aggiornamento lo troverete tra i finiti comunque un buonissimo prodotto poi per quanto riguarda il volume booster il primer per le ciglia e il top coat per le ciglia questo l'ho utilizzato quasi sempre e sono a buon punto sono tutte e due di essence mentre questo qua l'ho utilizzato solamente una volta poi ho utilizzato molte volte il rossetto nabla ombre rose questo è quello che rimane del rossetto mi piace molto ha un buon rossetto la colorazione perfetta per da utilizzare tutti i giorni da utilizzare durante il giorno quando non si hanno occasioni particolari è molto molto bello ed è anche abbastanza idratante ho utilizzato poi anche il rossetto questo qua il numero 05 quello firmato kate moss questo è quello che rimane del rossetto anche questo un bel rossetto però un po troppo scimmerino quasi quindi lo voglio finire però non mi fa impazzire ottimo il rossetto invece di evril siamo a questo livello qua utilizzato un po di volte però mi sto concentrando su quello di nabla per finire lui questo qua invece di neobio il elegant red l'ho utilizzato solo una volta per quanto riguarda le labbra mi rimane questa pastello qua direi cosmetics che avvino che ho utilizzato solamente una volta ma mi sono concentrata più sull'altra matita quindi adesso tocca a lei e poi utilizzato moltissime volte questa qua che è quella di la vera la numero 01 io la applico sotto ogni rossetto come base mi piace veramente tantissimo un'ottima ottima matita finite le labbra passiamo alle altre cose allora ho due matite nere per gli occhi quella di astra e quella di benekos le ho utilizzate entrambe ma mi sono concentrata un pochino di più su questa qua di benekos che vorrei terminare il prima possibile ma qua ancora non scende niente poi correttore questo qua di puro bio l'ho utilizzato molte volte ma l'ho appuntato credo una volta sola perché io metto il prodotto qua nel dito così in questo modo questo lo applico quindi mi ci vorrà molto tempo per finirlo per quanto riguarda gli ombretti sono questi due questo l'ho utilizzato solamente un paio di volte è quello di kiko ed è il numero 21 mentre questo qua di essence l'ho utilizzato praticamente ogni volta che mi sono truccata mettendolo proprio pucciando il dito e mettendolo su tutta la palpebra mi piace molto ha un bel colore ha un bell'ombretto mi piace e poi c'è la matita cerosa di Yves Rocher che ho utilizzato tre o quattro volte quindi questa diciamo è un po' la situazione attuale di questo mio progetto smaltimento per le poche volte che mi sono truccata sono comunque contenta di aver finito tre prodotti anche perché non è molto semplice finire prodotti make up per quanto mi riguarda comunque volevo farvi delle menzioni al di fuori di questo progetto smaltimento e cioè i correttori di Balea che ho utilizzato moltissimo il numero 20 e il numero 10 li ho utilizzati entrambi mi piacciono tanto e quindi sto utilizzando molto molto anche loro questi qua poi ho utilizzato praticamente ogni volta che mi sono truccata il solito illuminante della Essence che è della stessa collezione dell'ombretto e ho utilizzato praticamente solo lui e qua si iniziano un po' a perdere le stelline che sono nella cialda finalmente poi ho utilizzato questo qua che è la cipria di Catrice ma anche questa non vuole vedere un inizio di fine quindi è sempre lì e non so perché e poi ho utilizzato qualche volta anche lo spray fissante che praticamente ho solamente lui come spray fissante quindi utilizzo solo lui che è quello di Neve Cosmetics adesso visto che il mascara Pupa Vamp è finito e che questo è agli sgoccioli inserisco nel progetto smaltimento questi due mascara che ho aperto da un po' e vorrei quindi smaltirli sono questo qua di Douglas che sinceramente non mi ha mai fatto impazzire l'ho preso in super sconto ma veramente niente di che e per questo non l'ho utilizzato due volte ma invece vorrei utilizzarlo e poi il mascara della linea Ipoallergenic di Belle questo qua anche questo questo ce l'ho aperto da un po' e vorrei terminarlo mi ricordo che non era malvagio lo scovolino è fatto così e quindi niente vorrei inserire questi due nel progetto smaltimento make up quindi questi erano i miei prodotti terminati e insomma era l'aggiornamento era l'aggiornamento su questo progetto smaltimento make up fatemi sapere che cosa avete finito voi che cosa mi consigliate di provare se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao